Amici dello sportello del cittadino, ci troviamo a Taranto in via Lucania, una zona centralissima nei pressi appunto di piazza Lucania, di via Medaglie d'Oro, però è davvero incredibile che una zona tanto trafficata, tanto tra virgolette vissuta, giaccia nel degrado più completo e tutta questa striscia di strada è davvero un percorso di guerra. Tante inefficienze, tante segnalazioni, a cominciare da due alberi secchi che giacciono così abbandonati, morti e che nonostante le sollecitazioni dei cittadini non vengono rimossi, non vengono asportati. Proseguendo noi troviamo ancora erbaccia che cresce rigogliosa, incredibile cosa aspetta l'Amio a tagliare questa erbaccia, ma questo è nulla. La cosa davvero preoccupante, grave, pericolosissima è lo stato dei marciapiedi, marciapiedi completamente divelti, rotti, si vedono anche i mattoni spacchettati, poi chiazze qui e lì di asfalto, insomma un vero percorso di guerra. Consideriamo i rischi per chi cammina, consideriamo i rischi soprattutto per le persone anziane, immaginate un anziano che cade e si rompe il femore. Questa è via Lucania e sembra che non appartenga al comune di Taranto, ma i cittadini pagano regolarmente le tasse e tutto dallo sportello del cittadino.